Amici sportivi buongiorno a tutti dal centro sportivo Romagna Centro di Martorano, benvenuti a Romagna Centro San Nicolò, 24esima giornata del campionato di serie di Girone F. C'era soltanto un dubbio per quel che riguarda la scelta dell'under tra Battiloro e Gori, con Battiloro che ha avuto al meglio, attenzione qui a Ferri che tenera di rigore, va col sinistro, palla sul fondo non di molto, prima chance della partita per il Romagna Centro al terzo minuto. Con è battuto da Chiacchierelli, primo tiro dalla bandierina allo nono minuto, palla bassa, pericolosissima, e palla alta di un soffio sul tiro dei 20 metri di Petronio. Chiacchierelli alla battuta, palla stavolta alta per il tiro, al volo di Petronio che invece la stoppa proprio in calcia, tiro murato, poi arriva il tiro sul fondo di Riccardo Di Stefano. Chiacchierelli sul pallone corto, il passaggio per Petronio, palla in mezzo alla sponda, bellissima, per Bosi, Bilgani. La blocca lì, diciannovesima, occasione per il San Nicolò con il primo tiro in porta, bella questa trama sul calcio di punizione. C'è adesso Battiloro che si avrebbe molto bene, tola a destra per Magrini, forse un po' ha arretrato il pallone, cross in mezzo col sinistro, la sponda di Ferri e poi Battiloro non riesce a colpire, non riesce a colpire Battiloro, intervento providenziale un'altra volta di Nillo. Va Chiacchierelli sul fondo, non di molto occasione, quindi ancora per il San Nicolò, se la cava il Romagna Centro. Chiacchierelli, traiettoria velenosa, pallone allontanato, poi il destro di Di Stefano, sul fondo, che conclusione di Di Stefano, classe 2000. Finisce qui il primo tempo, 0-0 giusto direi tra Romagna Centro e San Nicolò. Attenzione a Chiacchierelli, ancora palla in mezzo, Magrini la lontana togliendola dalla testa di Traini, ancora forse il pallone di mano di Bosi, si lascia ancora proseguire il gioco, Petronio sulla destra per Chiacchierelli, a spate per il cross, eccolo, non è male, la palla finisce direttamente in gol. Incredibile il gol di Chiacchierelli sul cross, sorpreso Migani e il San Nicolò in vantaggio al settimo della ripresa. Ecco Gori, invece c'è Basso, il centrocampo di Romagna Centro. Tola per Marzavillani, palla che arriva in qualche modo a Ferri. Ferri cerca lo spazio, palla dentro per Gagliari, controlla, palla per Pedellì, ancora di testa, c'è Tola che controlla e calcia! Brenton Tola, pareggiato in Romagna Centro al diciottesimo della ripresa, ancora in gol, Brenton Tola. Mette in mezzo Bisegna, si immola, Maioli l'ha salvata lui, secondo me non Migani, che occasione per il San Nicolò, clamorosa. Attenzione, poi il pallone in mezzo, colpo di testa e Migani, strepitoso su Bisegna, ma c'era fuori gioco. Fuori gioco di Bisegna. Senza da l'altra parte però, bellissima la partita adesso, Delia per Magrini, che deve costare di prima. Infatti ecco il cross che non è male, Gagliari la controlla, poi calcia! Allora, addosso a De Santis, chiedono fallo di mano timidamente dalla panchina e dalla tribuna. De Carolis va col lancio e finisce qui, finisce così, botta e risposta tra Romagna Centro e San Nicolò, al gol di Cacchierelli al settimo della ripresa, risposto dieci minuti dopo, Brenton Tola col terzo gol da quando è tornato al Romagna Centro. Per oggi quindi è tutto, non mi resti che salutavi. Da Cristofre Leoni, ciao e alla prossima!